Qua è un onore essere in questo posto, lo so che sono molto appassionati di basket e molto orgogliosi della squadra che sta migliorando, che sta crescendo. Per me, come già ho detto, è veramente un onore essere qua, perché nella mia vita il basket è più importante, come la mia famiglia, perché la mia moglie è anche giovedrice di basket. E noi viviamo proprio di basket. Sono qua perché sono stati molto bravi con me, ha dato spazio e tempo per decidere se voglio venire, ha dato fiducia a Alessandro, Flavio e Max. Sono contentissimo di essere qua e che mi sento molto rilassato e bene che ho fatto questa scelta. Poi possiamo parlare di tante cose, milioni di cose, perché, come, quando e dove, però ho fatto la scelta credo che perché voglio giocare, voglio sentire, si dice goose bumps ancora e voglio fare qualcosa per questa squadra e sentire ancora l'enjoyment of the basketball.